Comeriggio Girotto, senatore, mi dice subito che, insomma, quello che dice Renzi è che alla fine se vogliamo fare delle proposte se ne possono far tante, no? Anche quella di collegare lo stipendio del parlamentare al lavoro che fa in aula. Ma guardi, comunque vadano le cose, il Movimento 5 Stelle otterrà comunque una parziale vittoria e il PD comunque una parziale sconfitta. Perché? Perché noi siamo riusciti a portare questo argomento sulla bocca di tutti. Questa trasmissione, le radio, le tv, i giornali parlano di questa proposta di buonsenso. Il PD è una parziale sconfitta perché? Perché se vota per rimandare il provvedimento in commissione e quindi insabbiarlo, come tante altre volte, quel cambio diverso che proprio Renzi si vanta spesso dimostrerà ancora una volta con i fatti che non c'è. Scusi, però le posso fare una domanda, così a casa ci capiscono, perché altrimenti parliamo un linguaggio che capiamo in pochi. Lei dice se alla fine lo rimandano in commissione. Io, per quello che so, gli emendamenti non sono stati discussi prima. Quindi è inevitabile a questo punto che dal Parlamento si torni alla commissione. Perché non sono stati discussi prima in commissione? Perché evidentemente appunto si è trovata la soluzione migliore per cercare di insabbiare. Io finivo il ragionamento che se comunque dovesse venire accettata la proposta, perché guardi che gli emendamenti si possono discutere anche in aula, la conseguenza sarà molto semplice. Perché non l'hanno fatto prima, visto che è tre anni e mezzo che noi lo stiamo facendo con i fatti senza bisogno di una legge. Quindi se dovessero accettare la proposta, la prima domanda che solge spontanea è perché non l'hanno fatto prima. E per quanto riguarda discutere anche del tasso di presenza, certamente sì, perché per esempio Di Maio ha il 12% di assenze. Renzi dice che ha il 37% di presenze. Sì, perché ha il 55% di missioni. Perché Di Maio è un vicepresidente della Camera. Per cui le assenze di Di Maio sono il 12%. Comunque intanto che ci rispondano su questa proposta, che ci mettano la faccia davanti agli italiani, poi noi siamo disponibilissimi e ci va bellissimo. Ma cosa vuol dire Di Maio è vicepresidente della Camera? Perché questo dimostra che a furia di demagogia e di rincorrere queste cose, salta fuori poi qual è il giochetto. Allora, il fatto che Di Maio, a differenza di un altro parlamentare, quando è assente, possa scrivere che è in missione, io non ho niente da dire. Ma loro, 5 Stelle, che si presentano come i puri, i duri e puri, quelli che sono perfetti, dovrebbero essere i primi a dire per esempio che tutti i deputati sono uguali e uno semplicemente perché è vicepresidente può scrivere missione e quindi quando metti la casella missione nessuno ti può contestare l'assenza. Io non contesto il fatto che un vicepresidente della Camera possa mettere in missione. Ma sono loro che dovrebbero dire siamo tutti uguali e la missione la rinunciamo. Cioè voglio dire che dietro questi giochetti qua, per esempio, Renzi ha fatto benissimo a ricordare, c'è chi usa centinaia di migliaia di euro per i rimborsi, oppure che ha un ufficio che sembra più grande di una hall dell'aeroporto di Fiumicino. Cioè, dove andiamo a finire? No, 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 diciamocela tutte. Voglio sapere, voglio sapere da girotto. Intanto mi spiega una cosa. La proposta che fa il governo Renzi con la riforma costituzionale di eliminare i senatori eccetera è in conflitto con questa cosa di dimezzare dal vostro punto di vista? Allora, innanzitutto Luigi Di Maio ha restituito 200 mila euro No vabbè, però non fermiamoci a Di Maio, risponda alla mia domanda È in conflitto con la vostra proposta di dimezzare le indemnità Il Senato non viene abolito, ci saranno 100 senatori Sì, però quella riduzione dei costi è in conflitto con la vostra riduzione dei costi Oppure io cittadino posso pensare buona la proposta dei 5 Stelle E se la sommiamo a quella del governo Renzi abbiamo fatto o abbiamo ottenuto un risultato migliore O no? Sì, ma non possiamo mettere sullo stesso piano queste cose che sono profondamente diverse In questo momento noi abbiamo una proposta molto semplice che è a prescindere dalla riforma costituzionale No, no, ma questo è chiaro Ero io che facevo un passetto in più e mi chiedevo se ogni tanto uno può anche dire Vabbè, perché no? No, le due cose non sono in conflitto tra loro Si potrebbero per esempio sommare Facciamo una cosa A fronte del sì, fronte del no No, noi abbiamo già fatto una proposta Noi abbiamo già fatto una proposta che è molto più incisiva Perché abbiamo già proposto di dimezzare l'intero numero di parlamentari Quindi di togliere 450 dal Parlamento Abbiamo fatto una proposta che è due volte e mezzo più forte di quella della... Va bene, la sensazione che abbiamo è che vedremo un grande spettacolo Anche domani si è confermata la presenza di Grillo Vediamo che cosa succede in aula Immagino insomma che ci sia uno spettacolo importante